Ben ritrovati, qualche giornale è già arrivato, lo vediamo insieme e insieme anche al nostro primo ospite di stasera che è Giordano Bruno Guerri, storico che è tornato a trovarci, bentornato a Rai News 24, collegato dal suo studio Giordano Bruno Guerri. Andiamo a leggere in ziasi di Cata, Natale con Giorgia, la corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra, la Premier sferza la maggioranza sui tempi in Parlamento se necessario, in aula anche il 25 dicembre per licenziare la legge di bilancio entro fine anno, tetto massimo di 400 milioni per i regalini dei gruppi parlamentari e pagamenti obbligatori con carta o bancomat da 60 euro. Sono sindacati a Chigi il 7 dicembre e un'impresa dice Meloni faggio a debiti per 90 miliardi. Allora, con Giordano Bruno Guerri vogliamo partire da qua, dalla prima legge bilancio del governo Meloni, si dice sempre che è la legge più complicata per un governo, soprattutto se il governo si è appena insediato, dovrebbe essere quella che tra l'altro ci fa capire qualcosa anche della linea politica, degli obiettivi futuri, di come pensa un governo, di immaginare la società del paese per gli anni a venire. Ecco, secondo lei questa prima parte, questa primissima parte di esperienza del governo Meloni ci ha già fatto capire qualcosa della linea politica dopo tanti anni che la destra non andava al governo? Questo governo di destra si capisce che ha una certa appartenenza politica e culturale, secondo lei, da queste prime mosse? La più importante che decide il destino economico e anche sociale del paese nel prossimo anno, quanto al fatto che si capisce che sia di destra, a me sembra una manovra moderata, moderata ed equilibrata, nel senso che ci sono provvedimenti importanti che potrebbero appartenere alla sinistra, come per esempio la tassazione sui macro guadagni dei prodotti petroliferi e dell'energia. È un'iniziativa forte al 50% del sovravalore. Ci sono poi cose che possono non piacere alla sinistra, come certe moderazioni delle pensioni, per cui le signore che avevano un vantaggio vorranno andare in pensione magari un anno o due dopo. Insomma, una manovra equilibrata, io non la definirei di destra, la definirei una manovra moderata con qualcosa che mi piace, come per esempio la liquidità a 5.000 euro, non perché io sia un evasore o pensi di fare frodi, ma perché è giusto che il cittadino possa disporre del proprio denaro, è una forma di libertà. Mentre non sono d'accordo sulla limitazione sopra i 60 euro all'uso del Bancomat, che effettivamente può essere un modo per incentivare qualche mascazzone. Sì, Giorgio Meloni, che se necessario il Parlamento lavorerà anche il giorno di Natale. Perché no? Si è votato per la prima volta in settembre che il Parlamento lavori anche a Natale, se non ce la fa prima. Questi politici quest'anno hanno lavorato tantissimo perché la campagna elettorale l'hanno fatta a ferragosto, poi si è votata a settembre in fretta e furia per fare la legge di bilancio, adesso potrebbero arrivare al voto, ricordiamo che c'è tempo fino alla fine dell'anno, anche nella settimana di Natale.